E' terminata la Coppa del Mondo qui in Val di Fiemme, due sono le Coppe di Cristaglio che l'Italia si è portata a casa. Ci troviamo con il tecnico della Nazionale Italiana di Schirole, Emanuele Sbabo, per commentare questa giornata, direi, storica. La Coppa del Mondo maschile è tornata in Italia dopo Eugenio Bianchi 2013. Sì, stagione sicuramente molto positiva, graduale, siamo arrivati con una buona condizione ai mondiali e da lì in realtà molti atleti hanno incrementato la loro condizione, arrivando qui e assicurandosi due coppe generali, sia nella junior femminile con Laura che nell'assoluta maschile con Matteo. Però direi che è stato un successo ovviamente di squadra, in quanto abbiamo avuto diversi podi durante tutta la stagione e anche il calendario nazionale è stato, sicuramente dal mio punto di vista, azzeccato. Ai raduni, training camp e tutto quanto. E niente, sono dei risultati che coronano sicuramente un ottimo lavoro di squadra, della federazione che ci ha dato la fiducia e gli atleti hanno ricambiato con tantissimi risultati strepitosi. Davvero di livello anche la crescita del settore giovanile, insomma i big trainano ma i giovani di certo non si fanno trascinare a vuoto. Sì, Laura è ancora molto giovane rispetto alle sue avversarie e devo dire che ho la fortuna di seguirla nella programmazione, come Matteo Tanel, Francesco Becchis, Luca Curti che qui ha dimostrato il suo enorme potenziale nelle gare in tecnica classica. Sicuramente i risultati della categoria maggiore premia e sono da stimolo per i giovani e questo è importantissimo e speriamo in un futuro che più atleti giovani si avvicinino a questo sport estivo perché, come è successo con Andrea Gartner, anche lui stesso ha riscontrato il valore aggiunto che può dare lo Schirol già nello scorso fine di settimana a Fornia e Volatri ai campionati estivi di Schirol. Ed ora la stagione non è di certo finita, anzi vi attendo ancora a un buon periodo di gare. Sì, ci sono ancora molte gare prima della fine della stagione, però diciamo che gli atleti che seguo io adesso sicuramente staccheranno un po' la spina, si sentiranno molto anche appagati da questi risultati quindi ora cercheranno di concludere la stagione nel migliore dei modi ma senza aspettative di rilievo quindi essenzialmente adesso si godranno i loro frutti di tanti sacrifici che hanno fatto tutta l'estate.